La reatta di mediazione ci ha dato una solita solitaria, quindi abbiamo trovato due reali fluss, si è entrata a stazione, si è entrata in uscita e si è entrata in uscita a Milano. E noi abbiamo, praticamente, se vedete, come lo finisce anche da qui, una banca. Come diremo che stiamo anche qua, qui ora è nato, perché possiamo fuori, tanto ci siamo già che qui non è di metterci in gatto, non è che passiamo. Non si vende per un corso, tanto è bellezza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aggiungiamo il distanziamento sociale, evitando assembramenti. Prima di entrare in treno, aggioriamo l'uscita dei passeggeri. Grazie per la collaborazione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.